La fede è gioiosa, ha notato il Papa nell'Omelia della Messa del Mattino. Non si può pensare una Chiesa senza gioia. E la gioia della Chiesa proprio è questo, annunziare il nome di Gesù. Dire Lui è il Signore, mio sposo è il Signore, è Dio, Lui ci salva, Lui cammina con noi e quella è la gioia della Chiesa che in questa gioia dispossa diventa Madre. Paolo VI diceva che la gioia della Chiesa è proprio evangelizzare. Andare avanti e parlare del suo sposo. E anche trasmettere questa gioia ai figli che lei fa nascere, che lei fa crescere.